sono nulla, però sembrerebbe il sole contatto con l'orizzonte adesso, evidente miraggio non c'è questa ora è sposizione a dir poco massima con il v-1 ma non credo che cambi molto con il 2 è un'oscana, un'oscana, un'oscana è una messa a fuoco migliore non c'è verso è una messa a fuoco migliore è una linea lunga il sole così rimane a lungo e poi sparisce il fuoco lascia molto a desiderare il meno 1 deve essere provato nel meno 2 ultime fasi dopo il 22 un tramonto che sta durando 3 minuti e mezzo forse 4 con le mie ultime fasi il sole a disco vola e quindi raggio verde questa è un po' più lunghissima questa base vento al massimo straordinariamente ancora una linea molto larga vuol dire che sta tramontando su diversi strati di riflessione ancora luci luci all'orizzonte superati i 7 minuti e ancora si arriva ma più o meno non si vede più 5 minuti di tramonto una cosa mai vista la dissoluzione graduale dell'immagine rimane una nube che si troverà sulla Provenza anzi sulla Camargo perché è bassissima sull'orizzonte l'occhio nudo l'occhio nudo non si è vista una transizione netta probabilmente c'è bisogno del binocolo anche l'occhio nudo il sistema si affuoco si vede qui queste ondate occidentesche spazzate dal vento sull'estremo dell'orto dei fiumicini un canto cannocchiale con montatura a pasta del capitano giustamente questo ci vuole al mare non si riesce a mettere a fuoco al solito si riesce a mettere a fuoco al solito si riesce a mettere a fuoco al solito Grazie a tutti.